quando la thailandia era divisa ancora in molti regni in uno di questi che si estendeva per una regione montuosa molto bella viveva un re molto saggio e rispettato un giorno dovette partire dalla capitale per raggiungere una città molto lontana e perciò partì con la sua piroga durante le ore più calde del pomeriggio seduto comodamente sui suoi cuscini di seta ricamati d'oro e con intorno a sé tutti i suoi ministri e appartenenti della corte iniziò ad appisolarsi nello stesso momento un rematore di nome filo iniziò a lamentarsi con i suoi compagni guardate che vita comoda che fanno i nostri passeggeri sono lì che oziano da quando siamo partiti ora potrebbero darci il cambio e remare almeno per un po dopo tutto sono uguali a noi il re fingendo di dormire ascoltava questi discorsi dopo qualche ora il capitano della piroga diede ordine di accostare arriva e permise a tutti i rematori di riposare la giornata era stata particolarmente calda ma subito si alzarono degli strani rumori dal bosco lì vicino e il re fece chiamare il rematore che prima si era lamentato e gli ordinò di andare a vedere cosa fosse l'origine di questi versi al suo ritorno il rematore comunicò al re che erano dei gattini ma il re chiese quanti sono e il rematore non sapendo dare risposta andò di nuovo nel boschetto tornò e disse al re che erano sei ma il re volle sapere di che colore fossero ancora una volta il rematore dovette tornare nel boschetto per scoprire meglio il loro colore al ritorno riferì che erano rossi neri e bianchi devono essere proprio belli disse il re ma sono tutti maschi o ci sono anche femmine continuò incuriosito filò affaticato tornò a guardare quattro maschi e due femmine disse tornato al cospetto del re i compagni del rematore intanto osservavano incuriositi la scena accortosi di questa curiosità il re svegliò uno dei suoi ministri e gli chiese di andare a vedere cosa fossero questi versi nella boscaglia anche il ministro tornò e rispose che erano quattro piccoli gatti maschi e due femmine nati da poco il re chiese di che colore sono uno è rosso tre sono neri e gli altri bianchi allora il re si rivolse ancora al barcaiolo e gli disse quando ti chiesi di andare a vedere il motivo di questo rumore tu sei dovuto andare quattro volte nel bosco il ministro invece è andato una volta sola ma ha visto tutta la situazione chiaramente ecco perché lui è un ministro perché è furbo e attento nell'osservare non ha perso tempo nell'andare avanti indietro al boschetto e perciò adesso ha tutto il tempo per riposare